non so cari amici se voi avete visto il giornale questo è la repubblica mercoledì 23 di giugno già quasi un mese fa volevo fare questi video ma non aveva potuto farlo perché mi ha sembrato molto interessante guardate il recovery fund il denaro come se spenderà la distribuzione delle risorse del piano nazionale ora green digitale altro se voi vedete qui in italia e l'86 per cento di questo denaro è riguardo a cosa green ma che cosa è green cosa è green dopo il 42 per cento del denaro per digitale e dopo l'altro cosa è il giornale veramente non ci dice che non c'è un euro un euro per la sanità del popolo italiano anche lo stesso in francia guardate germania e spagna interessante viene un denaro perché c'è avuto un problema della salute ma il denaro non va al sistema sanitario ora digitale cosa vogliono fare digitalizzare il popolo green cosa vuol dire fare l'italia più green ma io capisco che l'italia è uno dei paesi più green che abbiamo sulla terra se ci sono grandi problemi ma come un altro interessante che finisco facendo vedere questo che mi ha sembrato molto interessante guardate la fiducia nella scienza sono 22 per cento di differenza tra l'italia che ce l'ha o no 22 per cento di differenza questo è un studio interessantissimo informatevi guardate le patete la fiducia nella scienza sono 22 per cento di differenza